Salve, sono Iuri Bendini, vi do il benvenuto all'interno di questo screencast che vi mostrerà come utilizzare il software per il debriefing della Lerdal, il Lerdal Debrief Viewer. Lerdal Debrief Viewer a mio avviso è il più importante software realizzato dalla Lerdal perché permette di condurre il debriefing sfruttando sia il file di log, cioè le registrazioni automatiche o eseguite dall'istruttore durante la simulazione, combinate assieme al sistema audio-video che mi ha registrato tutta la sessione di simulazione. Questa combinazione è perfettamente sincronizzata per cui vedremo come la parte scritta, oltre a essere navigabile, è perfettamente sincronizzata con la parte video e questo vi permetterà di muovervi all'interno della sessione di simulazione durante il debriefing per andare a ridiscutere i vari punti della sessione. Prima di arrivare a discutere del software per il debriefing, mi interessa mostrarvi come si accede al software per il debriefing. Ritorniamo quindi per un attimo all'interno della GUI. All'interno della GUI in fondo a sinistra è presente un pulsante, debrief, che una volta cliccato avvia automaticamente il software per il debriefing. Vi faccio anche notare un'altra cosa, sotto al pulsante per il debriefing per accedere al debriefing c'è una sorta di pulsante che quando è, come in questo caso, rosso indica che il software che gestisce il simulatore in realtà sta anche registrando la sessione di simulazione, registrando in termini audio e video. Poi dipende dal tipo di installazione a vostra disposizione e allora la registrazione sarà fatta con una webcam e per assicurarsi che la webcam stia registrando sarà sufficiente vedere se il led sopra la webcam è acceso ed è verde. Mentre se disponete di un Lerdal AVS, cioè un sistema audio-video con il quale è possibile visualizzare o meglio registrare gli ingressi da più telecamere, in tal caso si sa immediatamente se il sistema sta registrando perché te lo comunica direttamente il software. Quindi dicevo, una volta fatto attenzione al pulsante sotto che sia rosso e acceso, che significa che il software sta anche registrando, e una volta verificato la necessità di passare al debriefing, basta cliccare su debrief per avviare automaticamente il software per il debriefing. Io ci ho cliccato sopra adesso, mi viene richiesto se voglio passare al debriefing, gli dico di sì. Eccoci dunque all'interno del software per il video debriefing della Lerdal. Questo software, come si può vedere dalla schermata, è diviso sostanzialmente in due zone. La zona qui di sinistra, la colonna di sinistra, all'interno della quale è presente tutto il file di log, cioè tutte le registrazioni che sono state fatte automaticamente dal simulatore. In realtà a queste registrazioni si vanno ad aggiungere anche le registrazioni che sono state fatte dall'istruttore, come ad esempio qui vediamo che al minuto 9 e 44 secondi è stata fatta una registrazione dall'istruttore che conferma la presenza di un errore relativo ad una fiala errata. Accanto al file di log, cioè alla registrazione, è presente e ben visibile una schermata più grande dove è presente il video o meglio il video della sessione registrata durante la simulazione. In particolare il file di log e il video sono sincronizzati tra di loro, per cui se io all'interno del file di log vado a cliccare su un momento preciso, ad esempio il terzo minuto e 41 secondi dall'inizio della simulazione, vedete che cliccandoci sopra il filmato e quindi anche l'audio vengono traslati nel tempo esattamente al minuto in cui sono andato a cliccare. Quindi ripetiamo, se ad esempio volessi andare a vedere il momento in cui è stata fatta una fiala errata, dovrei andare a scegliere l'evento, fiala errata, cliccarci sopra e una volta che ci ho cliccato sopra vedete che il video si trasla tutto a quel momento esatto. Quindi come dicevo la registrazione, il log, il file di log che viene registrato automaticamente dal software che gestisce il simulatore, è sempre perfettamente sincronizzato con la registrazione video che viene fatta della simulazione. Passiamo ai pulsanti che stanno sotto, vediamo che c'è uno slider, questo slider regola il livello di dettaglio del file di log, come vedete se metto al minimo livello di dettaglio viene evidenziata soltanto la segnalazione fatta dall'istruttore, se aumento al massimo il livello di dettaglio del file di log vedete che vengono rilevate, vengono mostrate anche tutte le registrazioni fatte automaticamente dal simulatore. Poi, come un qualsiasi video registratore ad esempio, anche qui sono presenti i pulsanti di play che permettono la visualizzazione del filmato, il pulsante di pausa per interrompere un attimo il filmato fino al pulsante di stop per interromperlo definitivamente. Abbiamo anche il tempo del momento esatto in cui è avvenuto quell'evento in cui ci siamo posizionati, quindi in questo caso, come si può vedere, io sono andato a selezionare l'evento relativo alla fiale errata, avendoci cliccato sopra il filmato si è portato a quel momento, ma soprattutto mi viene evidenziato anche il momento esatto in cui è stata fatta quella procedura errata. Ancora più a destra abbiamo due slider che sono relative all'avanzamento del filmato e alla possibilità di aumentare o ridurre il suono registrato durante la simulazione. Infine, questi pulsanti sono un notevole vantaggio che viene offerto dal software per la gestione del debriefing, perché attraverso questi pulsanti io ho la possibilità di visualizzare in maniera diversa il filmato registrato durante la simulazione e quindi poter focalizzare meglio l'attenzione sui vari punti della simulazione. Quella che sto mostrando in questo momento è la modalità ad una sola camera. Io, se dispongo di una VS, posso andare anche a selezionare la camera, basta cliccare con il tasto destro sul filmato e selezionare ad esempio la camera 2. Ecco che ho una diversa visuale del momento esatto della simulazione. Oppure la camera 3, vedete che ho fino a 4 telecamere. Fino ad arrivare anche a conoscere lo stato del paziente attraverso il monitor paziente esattamente in quel momento e quindi qui ho tutti i parametri che sono relativi alle condizioni del paziente in quel determinato momento. Se voglio però oltre a questa modalità di visualizzazione, ritorniamo sulla telecamera, posso andare a mettere una modalità di visualizzazione dotata ancora di una telecamera, ma questa volta con nel caso di una VS un'altra telecamera più in piccolo o come spesso accade con il monitor più in piccolo e allora vedete che mentre viene dato maggiore risalto alla simulazione attraverso il video, in piccolo noi abbiamo la possibilità di conoscere la condizione del paziente perché conosciamo l'immagine del monitor paziente esattamente in quel momento. Così come li abbiamo disposti in questo modo, vi faccio notare che io il monitor paziente lo posso spostare in modo tale da andare a oscurare delle zone che non mi interessano, così dicevo come ho disposto le telecamere in questo modo, sempre con il pulsante destro posso anche andare a scambiare la posizione delle camere, quindi ad esempio mettere il monitor nello schermo grande e nello schermo piccolo invece la telecamera più in piccolo. Altra cosa che è possibile fare è vedere contemporaneamente però disposte su due quadranti diversi sia la telecamera che il monitor, come in questo caso, ecco che i due compaiono in maniera separata, oppure dicevo se dispongo di una VS io posso arrivare a vedere tutte le telecamere, mettiamo la quarta telecamera in questa posizione, vedete che riesco a vedere tutte e quattro le telecamere contemporaneamente, oppure come si è visto all'avvio posso decidere di togliere una delle telecamere per dare invece importanza alla condizione del paziente e quindi conoscere esattamente l'immagine mostrata sul monitor paziente. Altra modalità di visualizzazione, l'ultima è questa, che vi permette di vedere in questa maniera tutte e quattro le telecamere, come in questo caso, selezionando camera 4 c'è la possibilità di vedere tutte e quattro le telecamere, se invece delle quattro telecamere mi interessa conoscere lo stato del paziente, al suo posto seleziono il monitor e questo lo posso fare per tutte e quante le quattro posizioni in cui sono presenti le immagini di telecamere. Alla fine io posso salvare il mio file di debriefing, salvarlo sulla chiavetta ad esempio per rilasciarlo ai partecipanti della simulazione, oppure salvarlo su un disco esterno perché voglio farmi un database di tutte le simulazioni condotte per valutare i progressi degli allievi perché magari ho inserito la simulazione all'interno del mio curriculum di studi, oppure come spesso accade posso arrivare addirittura a stampare il file di log e qui ho la possibilità di vederne una preview perché ad esempio posso lasciare il file di log come certificazione ai partecipanti della simulazione. Questo è l'ultimo screencast, con questo si conclude l'elenco, la sezione di screencast che vi permetteranno di usare in maniera immediata il software della Lerdal, sia quelli che gestiscono direttamente il simulatore quindi la GUI, sia come in questo caso il software per il debriefing che ripeto è il software a mio avviso più importante tra i software che ha realizzato la Lerdal.